La festa della Santissima Annunziata torna come ogni anno assieme alla primavera e con lei ha anche la fiera dei fiori. Oltre alle celebrazioni religiose, infatti, il 25 marzo per gli aretini è anche il giorno in cui le strade del centro si colorano di fiori e piante di ogni genere. Ma questa tradizione, anno dopo anno, sta sempre più cambiando volto. Se una volta gli espositori di fiori occupavano l'intera piazza del popolo, adesso i fioristi sono sempre meno, circa una decina su oltre 40 banchi in totale. Infatti, guardi, sono rimasta stamani come sono scesa. Dico, ma è possibile un largo così? C'era sempre tante bancarelle. Mi hanno detto che ce n'è pochi di fiori, non lo so, però è la prima volta che vengo, guardi, scusi. Quando c'era quello che era in Sant'Agostino, allora era un'altra cosa, esponeva cose bellissime che oggi poi purtroppo non ci sono più o non le portano più. Accanto a fiori e piante ornamentali, dunque anche prodotti alimentari, banchi di abbigliamento, casalinghe ed accessori. Ma la Santissima Annunziata è soprattutto una festa religiosa che ricorda l'Annunciazione e che si celebra ogni 25 marzo, appunto nove mesi prima di Natale.